Parliamone, quanti soldi spesi nelle scope e dopo poco si riducono così. E' ora di cambiare, da oggi abbiamo un'altra possibilità. Addio vecchie scope tradizionali, da oggi c'è lei. Oggi ti presento la mia nuova amica, la scuopa in silicone con manico telescopico. Mi permette di pulire i tappeti in modo efficace e veloce, ma non solo. Raccoglie perfettamente tutti i peli e i capelli, ma anche la polvere, dai pavimenti, raccogliendo anche la polvere più sottile. E' bastato un giorno per prendere l'abitudine di utilizzarla. E' veramente molto leggera, raccoglie perfettamente i peli e i capelli senza impastarsi. E con animali domestici in casa questa è una cosa fondamentale. Utile anche per i negozi di parrucchieri perché non va a impastarsi ed è facile da igienizzare e da lavare sotto l'acqua corrente. Si asciuga velocemente e facilmente. Qualcuno non sarà d'accordo ma questo video parla da solo. La scopa è dotata anche di un valido e pratico tira acqua, che ti consentirà di lavare anche a sguazzo e anche senza panni. Basterà strofinare con il tiracqua e tirare l'acqua in eccesso per andare poi ad asciugare. Anche il tappeto della cucina andrà a riprendere vita in pochissimi gesti. Manico telescopico adattabile da 70 a 1,30 m. E' uno strumento validissimo anche per i negozi di sartoria, per i negozi di animali, gli edili, ecc. Pesa veramente pochissimo rispetto ad altre scopi in silicone. E' dotata del manico e costa solo 9,90€. Se ne vuoi uno anche tu, contattami subito. Oppure lavora con noi nella vendita diretta. Catalogo ampio, con strumenti e accessori per la tua casa che ti semplificheranno notevolmente la vita. Prodotti di pulizia per la tua casa, ma anche accessori per i tuoi animali domestici. Ti aspetto!